ciao ragazzi come state mio amore è malato sto male troppo freddo ragazzi allora ragazzi sono a milano linate partendo ci siamo insieme ci rivediamo giovedì perché adesso parto vado in sicilia poi domani parlo a casa quindi siamo tristi tutti e due voi come state tutto bene tutto ok che fate non so che roba è questa cosa hanno inviato una richiesta di partecipi tra l'altro siamo tutti e due raffreddati ragazzi sia io che lei scatarriamo ma devo andare a tirare i capelli la barba si può trascurare perché siamo così bianchi e la luce follow me date un bel bacio grazie si è malata vittorio ci possiamo baciare grazie francesca va bene niente ragazzi quindi a milano sempre più freddo il ghiaccio io continuo a stare senza giubbino che ti mangi nomenems ma ti amo avete mangiato sì 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 abbiamo mangiato ciao davide l'abbiamo mangiato e io non avevo tanta fame perché ho fatto colazzine tardi che sono un attimo mi sono svegliato tardi e il suo amore grande gli ha portato le brioche in camera mi ha fatto trovare le briochine con la nutella dove andate ragazzi vittoria torno a verona a casa io invece sto partendo solo in sicilia stasera sono a provincia dei trapani e niente mi fa vedere i tuadelli i miei o quelli di vittoria comunque hanno cambiato tutto ciao nico comunque hanno cambiato tutto hai più visualizzazioni tu che amici di maria dei filippi davidone io non sto più vedendo i tuoi video lo sai perché non mi capitano avanti mi dimentico sempre di vedere siamo tristi però già immagino che starei facendo il panico ci rivediamo giovedì ci rivediamo giovedì ragazzi purtroppo questa è la distanza però siamo alla tre settimane insieme sulla montagna è andata bene ragazzi a Cormaiere è andato molto bene sì ragazzi stasera sono a Castelvetrano all'area 14 sì sì che tempo c'è in Sicilia fa freddo fa caldo nevica c'è il sole ma in Sicilia sicuro farà caldo come Napoli c'è sempre il sole ma anche qua c'è il sole no? sì ma là c'è il sole è bello quello caldo qua invece si muore e e Calabria piove no ragazzi così già mi progetto già mi programmo se atterrare col giubbino o senza giubbino cappotto sono dopo di te che sotterrone il nuovo tronista è meglio un caccia delle palle non lo so non l'ho neanche visto ho visto il video di presentazione non so non ho proprio te lo giuro non ho proprio visto Davide mi fai morire come devo fare con te ciao materino topo di fogna e chi è? e che ne sono? ma chi l'ha scritto? eh uno a te? no a lui e come ci permette? lo blocco? blocca radialo la messina piove lei parla no? è muta e anche io appena lo vedo mi vanno per terra abbiamo appena stacco mi metto un aereo vedo vedere tutti i video ho capito mamma mia sono morto di raffreddore dove state? allinate ragazzi Milano l'ainate abbiamo dormito qui vicino stanotte vittoria che farai senza mattia? a casa vado all'università in settimana ho lezione devo farvi quello che è bella ma c'è un gosso di un pellicano davide ma come cazzo t'hanno chiamato i tuoi genitori ti odiavano cazzo il luparnestra ma come cazzo ti chiami? la cosa bella è che si riuscita a prendere a me che facevo con le mani così che ridevo e la tua voce sosta e faceva ma come cazzo i tuoi genitori ti odiavano che siete brutti tu sei bellissimo invece Joseph sei stupenda questo ciuffo biondo sembri Justin Bieber come direbbe Davide ha ciuffo alla Justin Bieber hai fatto un'ottima scelta grazie perché hai scelto lei non mi piace proprio vicino a te invece è bellissima guarda quanto è bella alla faccia tua è stupenda è bellissima bellissima beh amore Vittorio mi sembri maschio ma ragazzi lei è maschio la sorpresa io sono un maschio le siciliane le più buone ragazzi tutte le italiane sono belle siciliane napoletane veronesi milanesi una donna è bella sempre grazie twins ma in realtà ci si ciao Mimmo Erika Davide Erika per leggerlo ci metto un po' di tempo Maria Di Filippo un sacco di tempo che non che non vi sento come va ma Gianni che dice che la più bella giuro si vede che gli piacciono i maschi il trono gay dov'è che studi Vittoria era area 14 castelvetrano yes spero di arrivare sano e salvo non è molto bello da parte tua a ridere sul nome io non sto ridendo sul nome sto ridendo su la mamma quanto siete pesanti mamma mia mamma mia la pesantezza avete da ridire sempre qualunque cosa uno fa mamma mia ciao Anto mamma mia mamma mia scusami se non ti richiamo coglioni è un nome del cazzo cioè a me se mi fa ridere Davide non è che mi devo mi fa ridere come magari gli altri rideranno sulle parodie che fa a me quindi state molto soft tutti da tutti da manchetti si tutti da manchetti chi è manchetti? il bar amore perugia vabbè quindi visto che tu tutti da manchetti quando la vedete da manchetti mi devo mettere un po' il burro cacao Giulia e Andrea Damonte li vedete ragazzi è uscita noi non siamo a Verona li vedremo ciao Anna ciao Anna saranno sbagliati i chiamati broccoli ciao Davide anche tu vabbè quindi non mi volete dire il tempo che c'è a Trapani e a sorpresa soppriati il naso ecco comunque amici non se lo sta vedendo nessuno siamo tutti qui un altro come te fai qualche puntolino alle lab ma chi? io o Vittoria? io no io no col setto nasale deviato vedete sono tutta natura Vittoria neanche sono tutte sono vere guardate vedete non c'è Botox altrimenti si sentirebbe guardate il naso è suo gli occhi sono suoi tutto suo i capelli a pazza sono suoi grazie Leonardo anche a te auguri grazie 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 Michela qui a Napoli piove il tempo è ok non ti arrabbiare desideria desideria eh? ciao Deborah salutami a papà un bacio ok piove in Sicilia bene a Napoli c'è un tempo di merda ecco vedi tu che dici sempre al sud se sto bene al sud c'è il sole